Siamo qui con Cristian Zago, responsabile ricerca e sviluppo Farmogal. Quale sarà il prodotto su cui punterete quest'anno al Cosmo Prof 2016? In realtà noi non puntiamo su un singolo prodotto, su un singolo trattamento quest'anno. Quest'anno vogliamo riproporci con quella che è la nostra filosofia, quindi dei trattamenti viso e corpo per gli istituti estetici o comunque per il trattamento professionale, tutti basati su una nuova filosofia formulativa, quindi molta attenzione alla ricerca e sviluppo, molta attenzione all'efficacia e alla sicurezza del prodotto cosmetico, quindi tutta una serie di prodotti formulati senza siliconi, senza oli minerali, quindi una filosofia formulativa che punta molto più alla ricerca del principio attivo, del principio funzionale, quindi del risultato del trattamento, proprio perché ci proponiamo a un target di clientela con un profilo molto elevato che è quello appunto dell'istituto di estetica. In realtà il nostro prodotto di punta in assoluto è il Gomming, che è un prodotto particolare, specifico per il seno, per il viso e per il corpo, un prodotto che ha un po' rivoluzionato, se vogliamo, il sistema di massaggio, che normalmente è un massaggio che viene fatto in compressione, con il Gomming, proprio un cosmetico adesivo dove il massaggio viene fatto in espansione, quindi va a sfruttare, se vogliamo, un richiamo di acqua nei tessuti profondi, va a sfruttare soprattutto quella che è la riattivazione del tessuto e il microcircolo, dando un certo tipo di benefici.